Ciao a tutti, finalmente vi faccio vedere come ho decorato l'agenda che ho avuto modo di avere due minuti e di aggiungerci tutto, per esempio questo l'ho tolto perché alla fine non me ne faccio niente, niente finalmente mi sono arrivate un sacco di cosine, me ne mancano ancora tante però intanto vi faccio vedere come ho aggiunto e decorato alcune cosine, questo è lo stickers per eccellenza che stra-adoro, infatti è carinissimo, spero che tenga questo mozzarella, questo gatto mozzarella è bellissimo, questa è la mia firma, la mia tag di Trubishu, poi vi faccio vedere, allora qua fuori ci ho messo ancora poche cose perché in realtà ci aspetto ancora qualche postittino, mi deve arrivare qualcosina di kawaii e aggiungerò per un secondo momento, quindi ho messo qualche sticker di Lakuma, questi che non stanno attaccati neanche a piangere, e poi aggiungerò qualcosa qua su un fianco, devo essere sincera, le bustine qua di lato si rendono un pelino scomode, quindi devo trovare cosa metterci per migliorarlo, poi come biro ho scelto questa, l'ho aggiunta, vedete la Tokidoki, l'ho aggiunta all'anelle e anche se la cambierò perché è troppo sottile e mi scivola, quindi tutte le volte che la uso praticamente si perde, poi io amante dei glitter non potevo farmi un cartoncino che ho scritto Glitters Make Everything Better, quindi i glitter rendono tutto migliore, ed è solo un foglietto plastificato che ho tagliato, poi primo divisorio, quello di Molang dove ho inserito il My Life, un paio di stickerini che mi avete mandato e sono bellissimi, tutti diversi, tutti, mi sto divertendo un sacco, dove ho iniziato con l'agenda vera e propria, quindi con le date, inizierò dalla prossima settimana così ho qualche giorno per prepararmi alla decorazione vera e propria, anche perché il prossimo video che vedrete per la decorazione dell'agenda vero per il Plan My Life è la settimana decorata con Halloween, quindi decoreremo insieme questa parte qua tutto a tema Halloween, poi mi sono messa un po' avanti fino a fine gennaio, mi sembra addirittura, sì, fine gennaio, anche perché poi qua nella busta che vedete qua di fianco, mi sono arrivati dei nuovi refill, dei nuovi fogli con la scaletta settimanale, quindi adesso io in realtà qua li ho attaccati tutti per un anno, ne ho da decorare veramente un sacco, ne dovrò togliere qualcuno perché è già murata, è già piena, poi il secondo divisorio ci ho messo YouTube e ho messo dei fogli dell'agenda, quelli che mi erano arrivate con l'agenda lisci, che decoreremo insieme anche in questo caso, poi il terzo divisorio è per Misobi, quindi il secondo negozio che ho su internet, poi abbiamo sempre dei foglietti classici, il quarto divisorio che è per Etsy, quindi l'altro negozio nella quale mi trovate con tutte le mie creazioni, altri fogli normalissimi per ora perché andremo sempre a decorarle insieme, quindi avremo un sacco di possibilità per andare a decorare e vedere di rendere uniche e personali le nostre agende, l'ultimissimo invece le collaborazioni, ultimamente sto avendo la possibilità di collaborare con un sacco di siti e con un sacco di altri YouTubers in generale, quindi meglio tenermi un po' le cose segnate, evitare di far figuracce, di non ricordarmi le cose, e quindi anche qua solo fogli bianchi, poi avevo dei fogliettini molto ignoranti, alla quale ho aggiunti i buchi e li ho fatti stare nell'agenda, vedete è già murata l'agenda, non girano già più le pagine, devo togliere delle, devo togliere dei fogli, gufi e tutti i gufini, era un blocco notes a 5 che avevo preso su Models4u una vita fa, che però mi erano rimasti alcuni foglietti di questo genere in giro, e quindi aggiungiamoli, si, erano carini, fa sempre mucchi, fa sempre bene, poi nell'ultima parte ho aggiunto questa cosa qui, è la plastichina classica, quella che si usa anche a scuola per tenere i fogli, solo che in a 5, e quindi è ottima per la nostra azienda, e cosa facciamo, cosa ci aggiungiamo, se non degli stickers, io avevo pensato a questi, che così li ho sempre a portata di mano, anche quando sono fuori mi viene qualche schizzo creativo e voglio attaccarne qualcuno, poi in fondo in fondo, ho attaccato con del biadesivo, questi memo pad, carinissimi, anche questi presi tutti su Models4u, in modo da avere dei fogliettini sempre a portata di mano, che fanno comodo quando vogliamo aggiungere qualche cosa alle nostre giornate, o addirittura qualche cosa alle nostre rubriche secondarie, e quindi niente, vi ho fatto vedere giusto velocemente quello che ho aggiunto, non è ancora assolutamente finita, e quindi così, spero che vi sia piaciuta, ricordatevi che i glitter rendono tutto migliore, mi ci farei la doccia se fosse per me, e quindi niente, ci vediamo con i prossimi video, vi lascio qua sopra, in questo angolo qui, dove vi presento la mia Nitro Biju Box, perché in un po' mi avete chiesto in cosa consisteva, e quindi vi lascio qui il video, che se volete ordinare o chiedere informazioni, avete tranquillamente tutte le info sotto. Con questo vi saluto e vi mando un bacio, ciao!